Oggi fai un salto alla mobile. Qualcuno ti aspetta per fare di te un vincitore e questa volta basta una cartolina per strappare il record dei premi. Un milione cinquecento mila vincite immediate per oltre due miliardi di monte premi. Dai lanciati alla mobile e strappa il record dei premi.